Ciao, ciao Donati, io sono Say, è il mio senso video, questo potrebbe essere l'unico video che farò questo mese qua, sia come vlog, sia come gameplay, dato che il 21-22 parto e torno il 5 febbraio, Xenome 2 costa 60€, l'ho preso il 20 di sempre, l'ho finito il primo gennaio, la storia segue un gruppo di persone che cerca di salvare il mondo da questo genocidio che ci ha successo in passato, il gioco c'è nessi capitoli, da capitolo 1 al 4 c'è tutta l'introduzione di personaggi e il mondo del gioco, da capitolo 5 al 10 è giover proprio uno che non va a comprare, e impara giover proprio, da capitolo 6 al 10 sono conegamenti a Cronus 1 e Cronus X, gameplay in ogni capitolo 6 al 10 è un po' lento, mentre capitolo 4 è un po' più veloce di poco, mentre capitolo 5 al 10 è spesso dal 7 al 10 è un po' più veloce, ogni combattimento dura sia da un nemico che uno incontra, sia da una persona che gioca, quindi dipende, se uno fa lemony, se uno diventa personaggi e fa altre cose non posso fare, io ho fatto solo a Starbust, ho fatto anche questo per andare avanti, ho fatto questo che mi serviva per andare avanti nel gioco, ovvero sai quest utili, di cui ho fatto solo 3 basti, ho fatto solo 3, comunque ovvero le quest qua sono ottime queste, uno fa la persona, uno fa la persona, uno fa la persona, basta, e fa i ganni e basta, comunque i boss sono semplici, i boss sono molto facili, a volte se ne è da livellare o a quest'anno un po' frustranti, alcuni boss sono fatti fuori al primo tentativo, altri al suono terzo, comunque i boss già sono abbastanza facili, dipende anche se è livellata o quant'altro, comunque, poi, in gioco si basa sulle combo e su malos infitti al nemico, ovvero malos elementari, ovvero che vengono spesamente infitti, vengono infitti tramite le combo e quant'altro, e poi, e poi sono dove uno stacco il personaggio in battaglia, fa più danni o meno danni, sono del personaggio che lo usa, e dove sta il nemico, sono statiato il nemico e fa più danni o di lato, e poi lo fa più danni da dietro, e poi lo prende da personaggio che lo usa, e dall'arma che lo usa. Comunque, avanti, il gioco, il gioco è molto bello, lo consiglio a chiunque voglia prendere il Switch, e a chi ce l'ha, se lo usa la Switch, prendetelo, per il gioco, dura abbastanza, spesso per chi ama GDR, ma mi piace, tipo, e poi se anche mi non interessa per il gioco, prendetelo, perché vi piace, sarà bello, almeno, sicuramente. Non fatemi intimidire, o comunque che è, dal fatto che la grafia è infatti, ha creato animato, ananime, e non un po' più, insomma, realistico, insomma questo. Poi, Dark Souls Remastered, ossirà il 25 maggio del 2008, quest'anno, il 28 va essere in disco, o meglio, così, in disco in retail, mentre il giorno dopo, ossirà su perfumi digitali, ovvero sulla storia dei giochi, e lo storia dei nello storico, come uno che ha, o su PC, comunque, ha il 25 anni di gioco, oltre che, in genere. Comunque, il gioco sarà su Switch, PS4, Xbox One, e PC. Su PC, dicono che sarà scontato a 20 euro, perché c'è già il gioco vecchio, il prezzo sta a 40 euro, ottimo, anche perché se costa a 60, sarebbe stato strano, ma queste rimaste, anche se escono tardi. Cioè, sono rimaste che costano, prezzo pieno, anche se sono giochi vecchi. Comunque, il gioco avrà anche, sarà gioco un pleto, più DLC. Gameplay, non so, il gameplay, forse sarà lo stesso, quello vecchio, ma spero sia, come quello del 3, o meno, spero, qualche tipo di, upgrade, di combattimento, non dico di essere quanto il 3, ma qualcosa di simile, ma un po' più veloce. Cioè, nel senso, un po' più, cioè, spero sia un po' più migliorato, semmo questo. Poi, se farà qualche feature extra sulla Switch, non lo so, ma spero, può darsi comunque, forse, se fanno feature su una Switch, forse sarà sul touchscreen, o in motion control, anche se ne dubito, sarà strano, cioè, sarà un po' più complesso. Un po' di realtà selezionabile, tanto che in genere, chi ha Nintendo, non ha mai voto, o meglio, sì, in proprio, chi ha Nintendo, in genere, non ha mai voto, PlayStation o Xbox, né un PC, mi sembra abbastanza performante, io ho PC normali, ho PC decenti quasi, comunque, PC normali, non ha gaming, non ha il potente, ma una cosa, possiamo giovarci, comunque, spero, qualche tipo di, di flotta social, tipo, trafaccio e normale, o qualcosa, tipo, un aiuto extra, tipo, comunque, qualche tipo di aiuto, perché, prende sul Switch, anche, anche no, è uguale, comunque, poi, andiamo avanti con, Irold Warriors, definite Baydison, che, per ora, la data, è di primavera, e, forse, sarà all'aprile, e, insomma, voglio qua, alcune cose, o, sarà l'aprile, in genere, condito, su, in primavera, come se ne aprile, in genere, comunque, avrà, sia la versione, in giostra, la versione, proprio, completa, avrà, avrà personaggi, mappe, e quant'altro, del 3DS, e da Wii U, se, va ripreso, dipendela a voi, se siete fan di Zelda, sì, e perché, e perché, non è molto fan di Zelda, dire di sì, un po', è un acquisto, un po', voglio dire, forzare, ma quasi, è un acquisto in cui, se uno ha, uno ha un soldi, per meno provare il gioco, una volta, io, il gioco, lo so io, è stato un bel gioco, penso, che avrà, avrà supporto, di Amigo, comunque, è stata una cosa, di superfluo, tipo, Link, dava, una, comunque, sblocca, tipo, armi extra, pure, da usare, il gioco, è molto più semplice, meno come, stile di, di, upgrade, contatto, a Fire Emblem Warriors, da quanto non ricordo, a me, Warriors, è un po' più complesso, e, e, le progresso di personaggi, c'è, ha un sistema di, livellamento, diverso, qua, 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 sono male, è realmente, automatico, uno, non lo so, imparare, in cosa, è, è, ma sono andato, a, a, fa, in, i, 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 che c'è, la difficoltà facile, non era molto, era facile, fino a, circa, i primi, disegni, livelli, comunque, comunque, uno, arriva dentro al Sanctum, dentro a questo, comunque, uno, uno, per prendere la Master Sword, il gioco è un po' più complesso, ma, non troppo, complicato, poi, il fatto, per, i, 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 tutti, e, quant'altro, il prezzo, solamente, salta, 50-60, spero, 50-60, che, se no, assurdo, ma, dato che, non intendo, intendo, anche se, non già, vecchio, il metterò, da prezzo pieno, pieno, questo motivo, perciò, il prezzo salta, 50-60, comunque, un prezzo, bene, per quello che, a parte, a parte, quello che, offre, ok, comunque, poi, mi sono fatto, una lista, iniziale, che vorrei, sono questi due, questi in blu, quelli in gris, quindi, sono quelli che, vorrei prendere, ma non lo so, sono quelli, in questo episodio, che, è, incredibilmente interessante, ma potrei fare da meno, cioè, potrei prendere un po' più in lasso, scontate, e quant'altro, spero si legga, comunque, e, per il prezzo, c'è, c'è, il ramo of fighters, che, il 26 gennaio, costrà 70 euro, io, ho fatto, matminthus, dipende sulla switch, cioè, io, ho fatto matminthus, lo spreciso, su console, portatili, a parte, Tekken 4, e, altri, giochi, in, ho fatto, connessioni, giochi, da, console, piece, bar, domaine, street fighter, e, e, all stars, contatto, e, su ps3, e, su ps3 vita, da, c'è, cross, save, cross platform, comunque, sarà, cosa che, nessuno, salvò, su ps3, e, su ps3 vita, potrà salvare, su ps3, e, comunque, sarà, un, cosa, un sabotaggio, e, quant'altro, comunque, previsco, giochi, ma, tenito, importate, dato che, tipo, blouse blue, non finito, blouse blue, preso, su, e, su ps3 vita, c'ho preso, un sacco, tempo, anche, in, zoss, 1, su ps3 vita, infatti, se, in, zoss, 2, s, su, la, switch, forse, dobbiamo, per, piesso, altro, quando, prendo, quella, switch, non lo so, comunque, sono, persone, prese, su, un, di, un, persone, che, prese, su, su, tante console, quant'altro, comunque, c'è, solo, c'è, solo, c'è, solo, of the colossus, che, se, il, febbraio, dove, dobbiamo stare, tra, 40, 45 euro, spero, si legga, comunque, poi, spiderman, ps4, quello, per, forse, lo, quello, in qualche modo, per forza, suppongo, rambostire, o in estate, io, direi estate, diciamo, in genere, marco, ossia, cose, cioè, in genere, cose, fuori a domarvi, quando, a suoi eroi, escono, in estate, in genere, o, se no, autunno, comunque, mi aspetto, tra, diciamo, da giugno, luglio, un po', fino a, diciamo, massimo, ottobre, con il genere, poi, kingdom, max, 3, debru, sir, a novembre, da, a, che dicono, il motivo, che è in grisa, perché, ovviamente, lo prendo, solo, lo, lezioni, nell'uno, nel due, su, questo, altro, lo prenderò, ma, questo, è che, non, ma, forse, prima, vado, ma, fanno, uno, su, portale, per la suite, anche, se, dubito, anche, dato, che, ninten, non so, quanto il fatto, che, non so, quanto il fatto, fanno, chino, 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 massimo, ninten, comunque, anche, 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 xbox, non ha, nessun tipo, di collection, disponibile, per ora, che è strano, dato che, deve possedere quest'anno, comunque, poi, se, il glove war, è, a marzo, dicono, che, non si era a marzo, in genere, il mese di uscita, il glove war, è a marzo, io, il glove war, non lo uso, se non, su PSP, i due su PSP, mentre, su PS3, nessuno, sono soltanto, demo e basta, comunque, forse, uno sarà, con plus, su PS3, un con il rod, posta, il code 20, che spero, che arrivi su, la switch, dato che, un'oposizione, che, anche per vedere, la grafia, che ha, sembra, meglio, non avere, sulla switch, e, tengo, con, altra cosa, come, il live, comunque, si, spogono, vestire, in estate, o, attunno, in genere, dorme, i source, like, escono, tra, diciamo, tra, luglio, e, novembre, in genere, escono, tra, quella, farsa, di, periodo, infatti, da, che sono, stesse, a marzo, poi, c'è, c'è, il, il, c'è, 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 una stazione iscritta, che stessi una iscritta, e, costarà il 20 marzo, o il 4, penso, il 20 marzo, c'è, in pratica, l'ameria, cioè, almeno, su, il sito, della, le, 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 fanno stare, adesso, marzo, costarà, 30, 40, euro, faccio 30, poi, poi, switch, banetta 1 e 2, il 6 febbraio, eh, il 6 febbraio, costarà 60 euro, dovrebbero stare 60 euro, comunque l'uno, in digitale, costarà 30 euro, il 2 sta 50, e poi c'è The World's Ends With You e Final Remix, un gioco per ds uscito nel 2006-2007 che proverò a prendere, spero costi al massimo 30€ al massimo, non di più se provo a andare proprio oltre 40€ ma spero di no poi se ho detto prima Iron Warriors, spero forse aprile può darsi, poi Dark Souls l'ha detto poi gli altri sogni che usano su Switch non si sa quando usciranno comunque dovrebbero essere a cui quest'anno, comunque c'è un rumor che dovrebbero fare un altro Direct il 22 gennaio perciò se vero o no si vedrà fatto sta la Switch è un'ottima non so perchè non ha la Switch ancora io ho bisogno di prendere l'altro che si ha ammisori, quindi se potete prendersi se no, passiamo 1, passiamo 1, sarà la sua piessa altro che si può usare il PC o qualche, o qualche avete comunque e poi a proposito di questa cosa nella Switch dell'Ombedict 5.0 che hanno, mostrano il link era e che possa, e che possa, e se si avverrà o no si vedrà fatto sta io spero abbia, a parte quello, oltre quello che l'ho visto nel video, ovvero YouTube e quant'altro, tipo YouTube e i temi che spero che, spero, spero con i gratis, e l'esperimento resteranno minimo 3 euro, minimo, massimo 5, costo PlayStation comunque, spero abbia un calendario interno, come percepita o il diario di 3DS da vivo quello che mostra i progressi fatto, proprio un tipo, da data, io voglio una cosa lì poi, un modo per ascoltare la musica mp3 o mp4, come su PS Vita sia come usb, mettiamo, mettere la usb dentro al, e, dentro al doc e in porta le canzoni, oppure mettere un'app come su YouTube c'era Napster e, un'acrosse su YouTube c'era Napster, comunque qualsiasi tipo di app mi sta bene, però voglio un modo per ascoltare la musica su Avvo 20 brani o uno di più, Onward, comunque mi, comunque c'era, metà musia, sulla, un aple e, giocavo metà musia tipo su Blast Blue comunque, ehm, detto questo, come detto, non so quando sarà il vostro video il secondo febbraio, se fero un altro video prima o no, se fero anche un play, non lo so o un video di cosa fanno, non prendo e faccio un altro annuncio bomba a sorpresa, io Dark l'ho visto per andare a scuola a serale, ho detto beh, faccio la capitata su Splatoon e arrivò a scuola, vedo non sono notifiche, c'è scritto cosa del Dark, lo guardo, è rimasto felice, ero felice. I musici qua sto aggiungendo a PC, guardo video su YouTube o quant'altro, ho visto anche film, tipo The Greatest Showman, bel film e musical, fantastico. Poi ho gioco un po' per la spazia su PC, sono anche un po' su PC, l'inxport è venduta, nel gioco, dicono che vorrebbe, eh, chi ha inventato, comunque, eh, comunque c'è un rumor che i director del gioco vorrebbe portare in vita il gioco un'altra volta, non spero tanto. intanto, 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 comunque, anche, anche è stato un porting di questo, o nel quello 2010, ovvero, quello 2010, l'esabili di dimenticate, quel gioco, a me, a me sa meglio, a me sa meglio cosa si pensa, se uno butta, lo prendo, ma ci prova a prendere. comunque a me ha preso spesso nel gioco io ho preso spesso nel gioco con APS2 ho avuto anche uno a quello su PC era 6bit comunque quello a pixel quello a schermito laterale detto questo lo so nel prossimo video ho detto non so ne sa non so ne sarà sarà dopo febbraio o prima comunque gli unboxing saranno gli unboxing sono frog sono un po' vertigine ho soldi ma non voglio sparare risultati cerco di mettere a parte soldi per Spider-Man sono già abbastanza soldi so che è una storia che forse fanno la letter e proprio prenderlo dipende dal prezzo ovviamente vi avete visto a questo video ciao 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 ciao